E' un nuovo episodio di ModCraft con i Borgazzini E' un nuovo episodio di ModCraft con i Borgazzini Nei commenti di questo episodio E sapete che apprezzo sempre le idee Quindi se me ne lasciate una mi fate sia il piacere di commentare Che è comunque utile perché mi fa salire e fa vedere il mio canale a più gente E allo stesso tempo mi fate il piacere di appunto darmi delle idee Che magari potremo andare a fare nei prossimi episodi O più che altro nell'episodio 140 La seconda domanda del giorno è come al solito Se avete degli altri progetti, idee o cose che potremmo andare a fare Lasciate anche quelle nei commenti E prima di passare al commento del giorno di oggi Voglio dirvi una piccola cosa che riguarda la nostra serie Ho deciso che verso l'episodio 150 Andremo a fare una cosa molto molto speciale Che sarà trasferirci per un po', non per sempre Per un paio di episodi In una parte del mondo Che ci servirà per analizzare e scoprire delle nuove cose Che non vi ho mai detto Della quale non vi ho mai parlato E che voglio provare ad analizzare Per poi poterle appunto vedere per il futuro E avercele in mente Quindi volevo giusto dirvi questa cosa dell'episodio 150 Ma manca un bel po' di tempo Quindi state tranquilli Non succederà così presto Quindi passiamo al commento del giorno di oggi Che è di Pietro Roberti Che ci dà un progetto flash Che è quello di andare a creare una pixel art Dice, penso sia una pixel art Della mia skin Lui dice di fare solo la testa Che non mi ricordo sinceramente come si fa So che l'ho già fatta però Magari gli diamo un'occhiata Ok, non è semplicissima però potremo andarla a fare E appunto di farla Nel modo più in fretta possibile Per quello detto progetto flash E decidere se farla in 2D Quindi solo la parte principale O farla in 3D Allora, mi piace molto l'idea Perché non abbiamo fatto ancora una pixel art Della mia faccia nel nostro mondo O più che altro della faccia del mio personaggio Quindi, quello che vengono a fare È farla 3D Però all'interno metterci qualcosa di concreto Quindi per ora andremo a creare La pixel art Magari il prossimo episodio Oggi non lo so Quando abbiamo tempo E poi andremo a riempirla Probabilmente con qualcosa Che riguarda il canale O che riguarda voi Che comunque è piuttosto interessante Forse andremo a metterci un computer Che mostra gli iscritti Come quella cosa Che stavamo facendo tempo fa Però non ne sono sicuro È giusto un'idea che ho in mente E appunto Lo ringrazio comunque per il commento E per l'idea che ci è stata data Se qualcuno di voi l'ha data in passato E l'ho per sbaglio saltata O non l'ho vista Perché mi sembra che qualcuno l'ha già detta Mi dispiace ma non Non ce l'avevo presente Non Si vede che non ho letto Ho saltato il commento Mi è passato fra gli occhi Non lo so Comunque mi dispiace Se l'avevate detta in passato E non l'avevo mai letta Comunque Questo è tutto quello che volevo dirvi Oggi prima di cominciare l'episodio Il commento ve l'ho letto Vi ho detto la cosa dell'episodo 150 Quindi Ora possiamo finalmente iniziare con questo episodio Quindi bando alle ciance E iniziamo subito Ok allora La prima cosa che voglio andare a fare oggi È fare un piccolo test Insieme a voi Per la nostra query Allora Prima cosa che voglio farvi notare Che ho com'è Le nostre mining well Un battery box Un frame motor Day frame Una lever E una energy cell Perché quello che voglio andare a testare ora Che è una cosa piuttosto interessante Pensate di aver lasciato Una frame da qualche parte Perché ero sicuro di averne presi 4 No vabbè Ne rubiamo un'altra Da questa nostra bag gialla Andremo praticamente a testare Come si può E se si può Spostare Le nostre mining well Con i frame Quindi la prima cosa che vogliamo fare È piazzare il nostro frame motor Nella posizione che ci interessa E girarlo verso l'alto In modo da poter Mandare In avanti I nostri item Poi le nostre frame sopra Ed infine Il battery box qua E poi Inserire tutti gli item Che Dovranno essere spostati Quindi al centro Del nostro Della nostra piccola piattaforma Di questa nostra Piccola piattaforma Di tre blocchi La nostra energy cell E ai lati Le mining well Allora Stiamo testando questa cosa Per vedere se possiamo E se abbiamo la possibilità Di spostarli In tutti i modi Quello che vorrei provare a fare Ora Sì siamo riusciti a spostarli Avendo le frame sotto Ma Visto che Le nostre frame Verranno scavate Dalle mining well Se le mettiamo In quella posizione Quello che voglio provare a fare È vedere se possiamo Spostare il tutto Anche con le frame Sul retro Se ci funziona questa cosa Potremmo andare A rendere il tutto Molto molto più semplice Perché potremmo andare A utilizzare Questo nostro sistema Per Come prima cosa Prendere e Come possiamo dire Prendere e spostare L'intera cosa Senza dover stare a romperla Rimpiazzarla Eccetera 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 Senza problemi Però fatemi rubare Un po' di energia da qua Perché l'abbiamo Completamente finita E Un'altra cosa Che ci tornerà utile Di questo nostro sistema È che non dovremo Stare a trovare E fare molta logica Per il sistema Completo Questo sta a significare Che quando noi dovremo andare A creare il sistema Al 100% Per questa nostra Quarry Non dovremo andare A fare praticamente nulla Per Appunto Spostarla E per mandarla avanti Allora Non sembra andare avanti Con questa posizione qua Probabilmente perché Stiamo Facendo qualcosa di sbagliato O Non ho La minima idea Però proviamo in questo modo qua E vediamo se la sposta in avanti Così Perfetto Ok va Il problema è che La nostra leva Era tenuta Dalle frame Comunque Visto che va Quello che potremo andare a fare Sarà già creare Un piccolo mockup Della nostra Quarry Magari nel prossimo episodio E potremo gestire Il tutto E l'accensione Delle nostre Come si chiamano Delle nostre Delle nostre Mining well Invece di gestire Il tutto Con la rottura E la presenza Diciamo Delle nostre mining well Nel punto E nel mondo Quindi al momento Le nostre mining well Sono nel mondo Dovrebbero scavare Però non andremo a gestirla così Non andremo a gestirla Ok ci sono Scavano Non ci sono Non scavano Le andremo a gestire Con il redstone control E il controllo Dell'energia Del nostro Energy cell Allora La cosa che Sarà difficile da fare Sarà trovare Il tempo giusto Per muovere il tutto E appunto Disattivare La nostra Energy cell Quindi andremo a vedere Queste cose Nel prossimo episodio E magari andremo già A creare un piccolo Mockup Cioè Una piccola versione Molto molto semplice Della nostra query E andremo a vedere Se funziona Oppure no Ok adesso Voglio lavorare un po' Al nostro balcone Allora come vi ho detto Non voglio farlo Troppo grande Perché se lo facciamo Troppo grande Poi sarà ovviamente Brutto da vedere E sarà una cosa Abnorme Però quello che voglio fare È seguire un po' Qua la linea Della nostra montagna Quindi voglio continuare Qua Per ora sto utilizzando Questi blocchi qua E oh mio dio Quanto mi Ho preso un colpo Ho visto Ho visto quel nostro Dummy che si è girato Da sole Ho preso un colpo Comunque voglio continuare Qua la linea Della nostra montagna Perché finisce A questo livello qua Quindi voglio continuare Dritto Se magari Mi piazza anche Le nostre cose Come voglio Invece di piazzarmene A caso E voglio farla finire Più o meno Qua dove finisce Anche il nostro vetro Quindi una volta Che siamo arrivati qua Non so se andremo A finirla così Diciamo Senza un angolo Senza una curva Senza nulla Perché pensavo Di mettere qualcosa Nell'angolo Però devo ancora Decidere cosa E per la parte Sotto Vorrei provare A utilizzare Una specie Di filler Che comunque È piuttosto Bello da vedere E non Scusate Ho il singhiozzo Così all'improvviso E non Diciamo È totalmente Orribile O completamente Senza senso In quel punto O che tipo Crea punti neri Come quello O qualcosa del genere Però allo stesso tempo Voglio tenere Lo stile Della nostra montagna Poi da vedere Che è confatto Con terra E roccia Quindi qua In questi punti Che andrò a rompere ora Quindi questi due compresi Uno e uno due Dovrò andare A scogitare qualcosa Per fare Questa nostra Piccola cosa Ovviamente Il vetro Lo andremo A spostare Da questa posizione Perché qua Diciamo Dà un po' di fastidio Quindi quello Che voglio fare È togliere Completamente il vetro E fare una specie Di apertura Completamente aperta Quindi se qua Per esempio Potremmo lasciare Il vetro qua Visto che qua È ancora Interno della stanza E per fare Questa nostra parte Del Del nostro terrazzo Possiamo magari Utilizzare Qualche altro tipo Di chiusura O di copertura Per appunto Non Non permettere Ai nostri Mostri O cose varie Di entrare Dalla nostra Apertura Probabilmente Andrò a utilizzare Molto simile Qualcosa molto simile A questo stile qua Però volevo giusto Farvi sapere Un po' come lo andremo a fare E le idee che ho per esso Quindi ora Passiamo ad altro Ok allora Ora voglio lavorare Un po' Un altro po' Anzi dovrei dire Con le nostre api Però la prima cosa Che ho notato È che venendo qua Ci sono delle cose Per terra Ci sono un bel po' Un bel po' Di cose per terra Anzi Devo dirlo Abbiamo una Tiny pile of diamond dust Della beeswax E del honeydrop Significa che qua dentro C'è qualcosa di incastrato Esatto C'è della Tiny pile of cold dust Ecco qua Ce n'è un'altra anche Ok C'era della roba incastrata Quindi questa è praticamente La roba Che ci è arrivata Dalle nostre nuove api Che sono le diamond bees Quindi qua voglio mettere Tiny pile of cold dust E tiny pile of diamond dust Allora Con esse Non so sinceramente Cosa possiamo andare a fare Vediamo Con quella di diamante Penso che possiamo fare il diamante Ok con quattro di queste Possiamo fare Una diamond dust E con una diamond dust Possiamo fare Vediamo come si fa un diamante Con la diamond dust Non so quale sia Il nostro processo Per farlo Però dovrebbe comunque Darci dei diamanti Dovrebbe essere qua Da qualche parte Oppure per forza Dobbiamo utilizzare Questo metodo Di esploderlo Ok vabbè E con questo di carbone Invece cosa possiamo fare Possiamo fare Vediamo c2 Carbone Sì possiamo fare cold dust Con la cold dust Possiamo Trasformarla O in carbon cell O in altri item Eccetera 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 Quindi è praticamente Ferma così La potremo andare a craftare In un'altra cosa Però possiamo lasciarla In questo metodo E in più Voglio farvi notare Che sto cambiando di nuovo Tutte le cose In energia Perché ho deciso Che questa nostra Piccola base Questo nostro piccolo punto Di produzione Di energia Sarà solo una cosa Per energia Extra E di emergenza Quindi ora si sta riempiendo Del tutto Però è solo Per le emergenze Per quando Per quando tipo Perdiamo tutta l'energia O non ne abbiamo più Nel nostro sistema O qualcosa del genere Quindi giusto per spiegarvi Quello che ho fatto E perché Ho risettato tutto Come era prima E ora lo facciamo Anche questi due Perfetto Comunque Nello scorso episodio Proprio alla fine Proprio alla fine della clip Che avevamo visto E dove avevamo lavorato Le api Mi è venuta proprio fuori La nocturnal serum Che è quella che stiamo cercando Allora La nocturnal serum È praticamente Un serum Che ci permette Di applicare Un effetto Alle nostre api Che li permette Di In qualche modo Di lavorare Anche di notte Quindi anche se non c'è luce Sopra di esse Li permette di lavorare In più Voglio farvi vedere Che con la nostra Con il nostro numero Maggiore di Diciamo Di offspring Cioè di figli E di drone Che fa Ogni volta che muore Ne abbiamo già 24 Quando invece per La nostra lapis queen Ne abbiamo praticamente Zero Quindi quello che andrò a fare Sarà aspettare Che la nostra lapis queen Finisca E torni in princess E poi andrò a inserirli Anche dentro di esse Ai nostri maximum Fertility Però voglio giusto Riempire Un'ultima charge A questa Cosicché ne abbiamo tre E la possiamo inserire Alla nostra lapis b E poi Anzi no Lo lascio arrempire Fino a 6 Perché ci servirà Anche per Il drone Ma vabbè E voglio ritirare Da qua Dal nostro inoculator La nostra Extatic queen E la nostra Unwary princess E le voglio andare a mettere Qui fuori Perché voglio provare a vedere Cosa riusciamo a prendere da esse Sinceramente Non so cosa aspettarmi Ah no Ok era una queen Quindi possiamo Ah possiamo applicarlo direttamente Ad una queen Quindi fatemi prendere la nostra Lapis queen Portarla qua Al nostro inoculator E tiriamo fuori anche Maximum Fertility Rifiniamolo un attimo In modo da poter Utilizzarlo Quindi mettiamo qua Lapis queen L'unwary princess La possiamo ributtare Lì dentro E infine possiamo rimettere qua Nel nostro sintetizer Il nostro Nocturnal serum Quindi vediamo Questo adesso è good quality Questo lo porta Excellent quality Però c'è degli altri passaggi Si mi converrebbe Riempirlo Prima di 16 cariche Quindi cariche massime Però sinceramente Non ho voglia Di perdere tempo In quello Quindi aspettiamo Giusto che Ci faccia In excellent quality Perfetto Ecco qua E ora possiamo Inserirlo Nella nostra Lapis bee In modo da produrre Più offspring Cioè più Figli da essa Comunque Io pensavo Che le diamond bees Fossero molto più utili Con la greg tech Sono più inutili Di quello che Sembrano Perché appunto Producono le dust E non direttamente I diamanti Se noi proviamo Sulla nostra Diamond comb Con la U Potete vedere Che produce A 100% di chance Di tiny coal Di una Particella Di coal dust E una particella Di diamond dust Però 25 e 50 Di beeswax E di honey drop Quindi Una cosa un po' Noiosa Che non producono Direttamente I nostri diamanti Però vabbè Dobbiamo farcene Una ragione E per ora La lasciamo così Comunque Visto che Le nostre api A casa Non stanno andando Benissimo Quelle che Ci aiutano A fare il breeding Degli alberi Quello che voglio fare E prendere Un industrius E poi Prendere Una princess A caso Che forse Ne ho già una qua Dovrei avere Una water princess Da qualche parte Eccola qua E voglio inserire Dentro questa nostra Water princess Il serum Delle industrius Solo che Non l'abbiamo mai Tirato fuori Quindi A questo A questo Per riparare A questo Possiamo rubare Un po' Di nastro Drone Buttarli qui dentro A lavorare E vedere cosa Riusciamo a prendere Da essi Intanto Tiriamo fuori Queste nostre qua Che non ci servono Voglio tenere La effect cancellation Che potrebbe Tornarci utile In futuro Non so se ci tornerà Utile Però voglio lasciarla E cancelliamo E cancelliamo Industrius Perfetto 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 Ora possiamo Rimettere Questi nostri Drone Al loro posto E possiamo Andare a Creare E finalmente Riempire anche Questo Per applicare La nostra Water princess E portarli A casa nostra Ok ecco qua Ho completato I nostri due Industrius Drone E princess Ora li possiamo Inserire al posto Di questi nostri Ah Erano già Industrius Allora Voglio controllare Un attimo Quali differenze Se hanno questi nostri Industrius Perché probabilmente Certi sono puri E certi no Allora Questo hanno Normal slower E fast E questi hanno Vediamo cos'hanno Come siete voi Normal slower E fast Ok Quindi abbiamo fatto Tutto quel lavoro Per nulla Perché sono già Degli Industrius Allora Ho fatto tutto quel lavoro Per nulla Quindi Quello che dovremmo Andare a fare Visto che gli Industrius Non sono abbastanza veloci Dovremmo andare a trovare Un'ape Con la pollinazione Maggiore Di Fast Quindi Faster O fastest Che stanno a significare Più veloce O la più veloce Quindi Non so come potremo andare a fare Sinceramente Mi sa che dovrò andare a controllare La wiki Per l'ape Con Diciamo Il livello maggiore Di pollinazione Per poter Diciamo Fare il crossbreeding Dei nostri alberi Più in fretta E poter Ricevere più cambiamenti Nei nostri alberi Per finalmente Arrivare alla sequoia Che non sono ancora Riuscito A raggiungere Perché dovrebbe Crearsi fra questi due alberi Ho anche spostato Questo albero Un po' a sinistra Per farlo Però Non sono ancora Riuscito a prenderla Quindi Non so Vedremo Vedremo in futuro E ora Passiamo ad altro Ok allora Per concludere Per questo episodio Voglio portare Voglio apportare Un piccolo cambiamento Questa nostra stanza Allora Prima cosa Voglio rimuovere da qua La nostra piccola Breath lamp Perché voglio fare Un piccolo test Voglio provare Una piccola cosa Allora Quello che voglio fare È scavare Verso l'alto Finché Non arriviamo Diciamo Al cielo E finché Non finiamo La nostra montagna Per vedere E Riuscire a vedere Se il nostro beacon Si accende Anche da questa altezza Oppure Se li serve Per forza sotto Una specie di Piramide finta Per funzionare Allora Secondo me Non si accenderà Non penso Lo farà Perché sotto Li serve Per forza Una piramide finta Quindi quello che voglio fare È rompere tutti i blocchi Qui sotto E sostituire Questi nove blocchi Qui sotto Come In Probabilmente ferro Perché è quello più semplice Diciamo che possiamo fare Quindi Facciamoci giusto Ora Nove blocchi Quindi questi sono sette Poi facciamo Vediamo Otto Per nove Nove Diciotto E Ventisette Dovrebbe essere Giusto il mio calcolo Speriamo di sì E ora Li possiamo buttare Nel compressor Per farci i blocchi Vediamo quanto ci sta Non dovrebbe stare molto Dovrebbe stare Giusto un paio di secondi E voglio provare A utilizzare Questo nostro beacon block Come Diciamo Punto centrale Ne ho fatti dieci Per sbaglio Vabbè Ho contato uno extra Quindi Voglio provare A mettere questi nostri blocchi Qui sotto Vedere se si accende Il nostro beacon block Oppure no Perché se si accende Lo possiamo magari Anche lasciare così Perché dovrebbe produrre Un po' più di luce Ed acceso Però non ne sono sicuro Ok Allora si accende Perfetto Perfetto Lo possiamo lasciare così È piuttosto bello Da vedere Ora voglio provare Se io metto La red lamp qua Si spegne O no Non la considera Come un blocco vuoto Quindi vabbè Possiamo lasciare stare La nostra red lamp Probabilmente Ne andremo a mettere In giro Per la nostra stanza Per poter Diciamo Concludere tutto E voglio provare Anche a vedere Se mettendo del vetro In quel punto Diciamo Si blocca il segnale Non penso Perché alla fine Il vetro è un blocco Trasparente Quindi non dovrebbe bloccarsi Anzi proviamo entrambi i pezzi di vetro Così che abbiamo La nostra teoria pronta E sappiamo già Se funziona oppure no E non dobbiamo stare A provare in futuro Quindi proviamo prima Col glass viewer Sembra funzionare Ok Col glass viewer funziona Proviamo col vetro normale Se funziona con quello Funziona anche con questo Perfetto Quindi possiamo lasciare qua Il glass viewer Magari ne metto uno Anche là sopra Così non cade nessun mostro E non si incastra nel tubo Però vabbè Comunque Per questo episodio è tutto Perché siamo già Oltre i 20 minuti Io spero che l'episodio Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Mi piace Commentare Iscrivervi E fare tutte le cose Dicono ogni santo E singolo episodio Che ormai sapete Già a memoria E vi ricordo che Se non siete ancora iscritti Vi chiedo per favore Di farlo Se vi piacciono i video E nulla Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Mi piace Commentare Iscrivervi E fare tutte le cose Che dicono ogni santo E singolo episodio E se il video vi è piaciuto Lasciate pure un mi piace Che fa sempre Fa sempre comodo E mi piace sempre Quando la gente Lascia mi piace E nulla Con questo saluto Bella raga